La legge è chiara, vendere frutta e verdura per strada è reato se il diretto contatto con agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito ne pregiudica lo stato di conservazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 6.108 di febbraio scorso. Eppure a Bitonto si continua a fare diversamente. Prova ne siano i camioncini ad ogni angolo della città e addirittura bilance comodamente adagiate sul marciapiede. Agli ambulanti poco importa che ci sia una legge che stabilisce il contrario. Andiamo avanti, dicono, per campare. Le tasse sono a 6 che si pagano. Il locale si paga pure. Come si fa ad andare avanti? La roba la diamo tutta un euro. E questo è il problema. A me piace stare all'aria aperta. Loro vogliono stare comodi, non vogliono prendere il freddo, non vogliono prendere l'acqua. A me non mi interessa. A me piace lavorare in questo modo qua. Loro vogliono lavorare in quello modo, non so cosa dirti. Ma la questione riguarda anche chi è fisso al mercato. Perché, diciamola tutta, non può un ombrellone o un telone salvare frutta e verdura dagli agenti atmosferici. Quindi sono abusivi anche i mercati rionali che dovrebbero trasferirsi al coperto. Ma questo è un altro problema. Il mercato coperto c'è, ma non è mai entrato in funzione. La questione non è quindi da sottovalutare. I controlli ci sono e sono pure serrati, spiega Domenico in Cantalupo, assessore alle attività produttive. Ma da settembre mettiamo mano al piano del commercio. Stiamo già predisponendo un coordinamento interforze con polizia e guardia di finanza. Così, conclude l'assessore, non si può più andare avanti. È vero, a settembre mancano meno di tre settimane. Meglio tardi che mai.